Nella sala Pasolini di via Sallustio a Matera un consiglio comunale monotematico per discutere dell'installazione di un'antenna 5G in via Gravina. Ad oggi i lavori di installazione sono stati sospesi dall'ufficio per repubbliche del comune che ha chiesto all'impresa che avrebbe dovuto realizzarli di acquisire il permesso a costruire viste le dimensioni dell'impianto che si vorrebbe realizzare. La società di telecomunicazioni come è noto ha risposto con un ricorso al TAR. Il consigliere di maggioranza Michele Paterino ha illustrato in particolare un ordine del giorno con cui si propongono importanti prescrizioni alle probabili future installazioni di antenne nel territorio comunale più urbanizzato, ma al termine si è deciso di ritirarlo per discuterlo ed emendarlo in commissione ambiente. Quella sull'installazione di un'antenna 5G nel territorio comunale più urbanizzato come si vorrebbe fare nella rotatoria di via Gravina è una battaglia politica da condurre tutti insieme, ha sottolineato il sindaco Bennardi nel corso del suo intervento. Alla seduta aperta hanno partecipato anche alcuni tecnici dell'ARPAB, il direttore tecnico Achille Palma e dell'ufficio inquinamento acustico ed elettromagnetico Maria Angelica Oletta. I tecnici ARPAB hanno rilevato che l'ente interviene esclusivamente sulle emissioni dell'impianti imponendo determinate prescrizioni che in un secondo progetto presentato dalla società di telefonia operante in via Gravina sarebbero state tutte osservate. Nella fase di assise aperta sono intervenuti anche i rappresentanti dei comitati civici e legambiente esprimendo la loro preoccupazione per il potenziale impatto dell'impianto sulla salute pubblica e invitando l'amministrazione comunale a imporne la delocalizzazione. Risale intanto a dicembre scorso l'ultima mobilitazione dei cittadini, tra loro anche il consigliere comunale Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia, che già in quella occasione tuonò contro la scelta di installare l'infrastruttura in via Gravina. Il consigliere, anche in questa circostanza, sulla scorta dei documenti amministrativi acquisiti, ha espresso forte rammarico per l'assenza di autorrevolezza che ancora una volta contraddistingue l'operato dell'amministrazione.